A seguito delle criticità evidenziate, i termini della scadenza saranno prorogati. Questa decisione è stata presa al fine di venire incontro il più possibile ai cittadini e consentire le verifiche utili a risolvere in modo puntuale ed accurato le pratiche di ogni utente. In riferimento alla richiesta di verifica dei ticket e dei pagamenti non risultati pervenuti per prestazioni sanitarie eseguite negli anni dal 2014 al 2016, l'ASL di Biella ora si scusa per il disagio, ringrazia i cittadini che in questi giorni hanno risposto alla richiesta di verifica presentandosi personalmente o inviando la documentazione utile. Coloro che avessero necessità di chiarimenti o fossero in possesso di un'esenzione o della ricevuta corrispondente al numero di prestazione per la quale è stato inviato il sollecito, possono scrivere a recupero.ticket.piemonte.it, indicando un recapito e allegando la documentazione utile. Saranno attivi due sportelli per le richieste di chiarimenti o verifiche, uno presso l'atrio dell'ospedale a fianco allo sportello dell'URP, uno presso la Casa della Salute di Cossato, entrambi aperti dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì.